benvenute a tutte e tutti oggi vi parlerò del sananga questo collirio che sempre ci regala la tradizione amazzonica e che si ottiene attraverso il decotto della radice di questa pianta appunto del sananga che presenta appunto questi fiorillini molto belli bianchi e che si prende appunto cura della nostra vista della nostra visione quindi dei nostri occhi 12 e del terzo a 360 gradi proprio perché per quanto riguarda la vista ci assicura appunto una pulizia molto profonda dell'occhio e al tempo stesso anche una stimolazione di quello che è l'occhio proprio inteso come un muscolo proprio perché quello che ci assicura una buona vista è stato appunto anche riconosciuto ultimamente e al tempo stesso rispetto appunto ad un punto di vista più energetico e quindi concentrandoci su quello che è il terzo occhio o la nostra appunto ghiandola pineale pituitaria la grande stimolazione di queste ghiandole endocrine ci permette di aprire una visione diversa e quindi nel caso del sananga è proprio il focus verso una direzione quindi è come se ci aiutasse a comprendere la direzione verso cui orientarci e come assumerlo ideale è stendersi supini e mettere una goccina in ognuno degli occhi all'altezza qui del lacrimale quindi qui nella ghiandolina dove escono appunto le lacrime ad occhi chiusi quindi stesi occhi chiusi metto una goccina e l'altra e poi dopo aver messo da parte la boccetta comincio a respirare profondamente perché l'esperienza può essere intensa e quindi aiutarmi con la respirazione mi aiuta a sopportarla oa ad attraversarla in maniera più in maniera migliore quindi mi sforzo di aprire gli occhi e di chiuderli perché questo permette al rimedio di entrare di penetrare in maniera omogenea all'interno dell'occhio e si tratta appunto di un'esperienza intensa ma di di grande anche è molto energizzante a decongestionare anche tutta la parte quindi anche ottimo per sinusiti eccetera ma apprezzerete proprio un miglioramento della vista e quindi colori più vividi e una maggiore presenza in maniera immediata per saperne di più potete consultare il nostro sito o contattarci alla prossima clip